signori dieci giorni con babbo natale film commedia del 2020 con fabio del luigi mi sembra che si chiami e abbattantuono pensavo molto peggio pensavo molto peggio perché l'ultimo che ho visto non mi era piaciuto assolutamente invece dai un set glielo possiamo dare qualche battuta è scontata però alcune cose ci hanno preso ti toccano sono riusciti a fare qualcosa di carino ci sono dentro un paio di immagini interessanti un paio di fotografia si dice come i professionisti basta così un saluto a tutti se volete iscrivetevi al canale se volete lasciato lei ciao ciao